di essere qui con voi anche. Dicevo che noi stiamo discutendo il piano nazionale per la ripresa della resilienza in una fase molto positiva per l'economia italiana, ce lo dicono i dati sul prodotto interno lordo, una crescita congiunturale del 2,7% anno su anno del 17,3% ma era un confronto con un trimestre straordinariamente negativo, ce lo dicono i dati sulle esportazioni, ce lo dicono gli indici di fiducia delle imprese e dei consumatori che sono ai massimi storici, quindi l'Italia sta recuperando e sta recuperando più velocemente delle previsioni, ma è una fase di recupero perché sono dati molto positivi, noi chiuderemo il 2021 tra il 5,5 e il 6% di crescita ma vengono dopo un 2020 in cui avevamo perso l'8,9% ed è stato uno dei dati peggiori tra le economie europee, in primo luogo per il peso che sulla nostra economia hanno settori che sono stati severamente impattati come il turismo e tutto quello che ruota attorno al turismo, comunque stiamo recuperando, stiamo recuperando meglio delle previsioni e probabilmente nel primo trimestre del 2022 noi raggiungeremo nuovamente i livelli produttivi pre-Covid, credo però che non possiamo abbandonarci all'euforia e cullarci sugli allori di questi numeri perché l'Italia non può contentarsi di tornare ai livelli del 2019, la vera sfida l'ho detto anche ieri Presidente Draghi nel corso della conferenza stampa, la vera sfida è in realtà superare vent'anni di stagnazione che hanno fatto perdere posizioni su posizione nel nostro paese perché l'Italia del 2019, l'Italia pre-Covid era un paese che veniva da un ventennio di crescita allo zero virgola ed era un paese che era profondamente segnato da disuguaglianze, da uno sviluppo poco sostenibile dal punto di vista ambientale. La vera sfida è crescere ad un ritmo elevato anche dopo che avremo recuperato i livelli pre-Covid e costruire un modello di sviluppo che sia realmente sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e questa sfida sta scritta tutta nel PNRR e nei 235 miliardi di euro che sono mossi, messi in moto dal piano che abbiamo consegnato all'Europa, alla Commissione Europea a fine aprile del 2021. Lì c'è il cuore di questa sfida che è una sfida riformista, che è una sfida del Partito Democratico, lo ha ricordato molto bene Vinicio Peluffo e innanzitutto merito del Partito Democratico se l'Italia si è conquistata in Europa quel cambio di politica e quelle risorse perché noi siamo sostanzialmente il primo paese beneficiario sui 750 miliardi complessivi di Next Generation EU ed è merito del Partito Democratico e della nostra cultura politica se nel PNRR quello scritto dal governo Conte Bis, modificato ma non stravolto dal governo Draghi, se in quel piano al centro c'è un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale che parla di transizione ecologica, che parla di inclusione sociale, di riduzione dei divari territoriali che non si accontenta di mettere in moto un gigantesco piano di investimenti il maggiore dalla Seconda Guerra Mondiale ma indirizza quel piano di investimenti e quelle riforme ad una precisa idea di paese ed è un'idea di centrosinistra che riflette larghissimamente le priorità politiche e programmatiche del Partito Democratico. Quel piano è una straordinaria occasione ma dobbiamo essere consapevoli che i prossimi mesi saranno un tornante decisivo per il processo di attuazione. Noi abbiamo presentato a fine aprile il piano, abbiamo incassato a metà agosto i primi 25 miliardi, bene, ora però viene la parte veramente complicata ed è la parte di implementazione di un programma gigantesco che ha delle tempistiche molto astringenti. I soldi devono essere impegnati entro il 2023 e chi è amministratore pubblico sa che cosa vuol dire questo e spesi fino all'ultimo euro entro il 2026. Sono soldi che non hanno lo stesso trattamento dei fondi europei ordinari per i quali l'Italia è sempre in ritardo ma in qualche modo si arrabbatta e riesce a non perderli. Sono soldi che se non vengono impegnati tornano in Europa con grande gioia degli euroscettici, dei sovranisti, dei frugali e di tutti quelli che hanno spinto per non fare questo piano o che hanno posto mille paletti quando è stato definito l'assetto di governance di Next Generation EU. I due punti a mio giudizio cruciali dei prossimi mesi riguardano da una parte la macchina pubblica e dall'altra il programma di riforme. Chiara lo ricordava, noi abbiamo varato due provvedimenti importanti prima della pausa estiva, il DL77 che ha sciolto i nodi della governance ed erano i nodi su cui si era incagliato il governo Conte II. Adesso c'è un quadro chiaro, al centro c'è il Ministero dell'Economia e delle Finanze del meccanismo di monitoraggio e di dialogo con la Commissione Europea, c'è la cabina di legge politica, c'è la segreteria tecnica alla guida della quale è stata nominata pochi giorni fa Chiara Goretti. La governance è definita, sono state approvate delle norme importanti di semplificazione che da una parte prorogano il decreto semplificazione del Conte Bis e dall'altra introducono ulteriori elementi importanti di snellimento delle procedure. Il DL80 ha lavorato per rafforzare la capacità amministrativa centrale e territoriale per l'attuazione del piano, però è chiaro che tutte queste norme che noi abbiamo approvato in Parlamento vanno messe a regime e vanno implementate il più rapidamente possibile, perché al di là della semplificazione delle regole o c'è una macchina pubblica che funziona a livello centrale e locale, che recupera capacità di progettazione, di monitoraggio, di implementazione e di verifica dell'attuazione del piano o il piano rimane sulla carta e le riforme che sono materia del Governo e del Parlamento innanzitutto, che dobbiamo approvare, che dobbiamo presentare e approvare nei prossimi mesi, sono parte integrante del piano, perché sbaglieremmo se leggessimo il PNRR come solo un programma di investimento, il PNRR e Next Generation News sono investimenti e riforme. Abbiamo incassato i 25 miliardi bene, i prossimi arrivano in relazione al raggiungimento degli obiettivi che abbiamo scritto nello sul bianco sul piano e al rispetto delle tempistiche di approvazione delle riforme che abbiamo scritto sul piano e verso le quali ci siamo impegnati nei confronti dell'Unione Europea e, lo ricordo, entro dicembre di quest'anno, cioè nei prossimi quattro mesi, noi dobbiamo presentare 13 riforme e approvarne quattro e parliamo di provvedimenti di grande portata. Noi dobbiamo presentare la riforma fiscale, la proposta di legge delega di riforma fiscale, dobbiamo presentare la riforma sulla concorrenza in un Paese che di legge sulla concorrenza doveva farne una all'anno, in realtà ne ha fatto soltanto una approvata due anni dopo la presentazione iniziale per dire della refrattarietà di questo Paese a riforme delle regole concorrenziali, la giustizia civile, insomma è un elenco molto nutrito e le tappe sono molto serrate anche da qui al 2026. Il tema delle riforme naturalmente chiama in causa un problema squisitamente politico perché sono riforme che vanno in Parlamento devono trovare una maggioranza parlamentare e spesso affrontano temi che sono in partenza molto divisivi all'interno della variegata maggioranza che sostiene il governo Draghi. L'esempio classico è la riforma fiscale, le commissioni finanze di Camera e Senato a dire il vero hanno trovato un interessante punto di incontro preliminare però lo hanno fatto senza indicare le coperture e se chiunque capisce di economia sa che si possono scrivere i più bei documenti del mondo di riforma fiscale in cui tutti promettono di ridurre, cancellare l'IRAP, ridurre l'IRPEF e alleggerire la pressione fiscale ma se poi non è un quadro di dove vai a trovare i soldi queste belle intenzioni rimangono scritte sulla sabbia e noi siamo a questo stadio. Abbiamo una certa condivisione su alcuni interventi di riforma fiscale ma abbiamo soltanto 3 miliardi di euro quest'anno e 2 miliardi l'anno prossimo che sono niente rispetto ai 10-15 che servirebbero per fare una riforma fiscale con le ambizioni che hanno manifestato le commissioni finanze di Camera e Senato e quindi bisogna trovare dei punti d'incontro, costruire dei compromessi, avere chiare delle priorità e questo è un lavoro squisitamente politico tra forze che vanno dalla Lega che sostiene la flat tax al Partito Democratico che ha le posizioni che sappiamo per non parlare di libri uguali che sostiene la patrimoniale. Lo stesso per molti versi vale su tematiche potenzialmente divisive come la giustizia che Franco conosce bene e altri temi che abbiamo discusso e discuteremo nei prossimi mesi. Ora io credo che abbia assolutamente ragione Paolo Gentiloni che al meeting di Rimini ha richiamato con forza il nostro Paese, la classe dirigente del nostro Paese, politica ma non solo, sull'importanza dello snodo che ci spetta nei prossimi mesi. Gentiloni ha detto che il prossimo autunno è il più importante degli ultimi 30 anni per il nostro Paese. Guardate non c'è retorica in queste parole perché dobbiamo essere consapevoli che i prossimi mesi, le riforme che dobbiamo discutere e approvare, l'efficientamento della macchina pubblica che dobbiamo realizzare qui e ora, perché i soldi dobbiamo iniziare a spenderli qui e ora, 21 miliardi nel 2021, 35 miliardi nel 2022, 49 miliardi nel 2023, con una progressione che raggiunge il massimo nel 2023, 2024 e 2025. Questi obiettivi richiedono una innanzitutto la consapevolezza della posta in gioco da parte della classe politica e della classe dirigente delle organizzazioni economiche e sociali. Non possiamo permetterci di fallire questo passaggio per la futura generazione italiana, sicuramente, perché altrimenti recuperiamo quello che abbiamo perso e poi riprendiamo ad arrancare come un vecchio macinino, ma non possiamo fallire questo passaggio per il futuro dell'Europa, perché l'Italia è il primo beneficiario di Next Generation EU, perché gli europeisti vogliono rendere permanente un meccanismo che per il momento è stato ideato come risposta una tantum ad una drammatica emergenza sanitaria, economica e sociale, e quindi come andranno le cose in Italia, se il Next Generation in Italia sarà una storia di successo o meno, sarà un elemento chiave per definire gli equilibri politici in Europa nel momento in cui si andranno a ridiscutere le regole di finanza pubblica e il rafforzamento, la creazione di una vera capacità di bilancio delle istituzioni europee in una Unione europea che oggi ha una politica monetaria comune, ma non ha una politica di bilancio condivisa. Questo è il punto, questa è la posta in gioco in Italia e in Europa di quello che accadrà nei prossimi mesi nel nostro Paese. E allora io credo che abbia molta ragione Enrico Letta, abbia molta ragione il Partito Democratico a richiamare la necessità di un patto per le riforme per l'attuazione di Next Generation EU nel nostro Paese. Guardate, non basta pensare di affrontare passo per passo, uno alla volta, questo programma ambizioso e serrato di riforme senza avere una cornice politica di condivisione generale. Che riguarda la politica sicuramente, Salvini si è svegliato e adesso chiede una cabina di regia perché tutti ci rendiamo conto che va costruito un terreno di condivisione politica delle scelte che ci aspettano nei prossimi mesi, ma un patto per le riforme riguarda anche le organizzazioni economiche e sociali, riguarda Confindustria, riguarda le associazioni della piccola e media impresa e le organizzazioni sindacali. in un Paese che sta recuperando dal punto di vista economico, ma esce con le ossa rotte dalla peggiore recessione del dopoguerra. Ed è un Paese che esce dalla crisi pandemica, sta iniziando a uscire dalla crisi pandemica, con un quadro di disuguaglianze sociali, territoriali di genere più grave rispetto a quello già preoccupante con cui siamo entrati nella pandemia a febbraio del 2020. Serve un patto per le riforme o veramente chiuso e serve anche continuità di governo. Io lo voglio dire con molta chiarezza, vedo complicato che a febbraio del 2022, quando scade il mandato del Presidente della Repubblica, rimettiamo in discussione anche la continuità dell'esecutivo e io appartengo a quelli che ritengono invece che questo governo debba andare avanti almeno fino al 2023, almeno fino alla scalenza naturale della legislatura, in virtù della forza espressa dal Presidente del Consiglio e dalla sua capacità di fare sintesi tra forze politiche molto diverse con un programma di lavoro che è veramente molto impegnativo e decisivo per il futuro del nostro Paese. Questo è quello che ci aspetta, dentro questo terreno c'è uno spazio molto grande di responsabilità e di iniziativa per il Partito Democratico. Noi siamo il partito che ha ottenuto il PNRR e noi dobbiamo essere i principali interpreti di queste sfide, della spinta riformista che sta scritta nel PNRR e del modello di Paese verso cui tende il programma di investimenti e le riforme che abbiamo scritto in quel piano.